La piaga delle urne deserte, il fatto ancora tutto da decifrare delle tante liste civiche, il quadro dei risultati del voto nei comuni torinesi, l'intervento di Papa Francesco sull'utero in affitto definito una pratica disumana, la cronaca dello straordinario risveglio degli oratori con 260 cortili animati ogni giorno, arrivoli i cento anni di scautismo, a Marene una bella estate, a Borgovittoria i giorni dei gonfiabili, a Mappano giovani in festa, Europa voci dal fronte di guerra, Italia la paura pesante del debito, mondo le incognite di Iraq e Iran, cultura le voci inquiete della chiesa del dopo concilio, l'arcivescovo Repole dai preti con qualche anno in più, la voce e il tempo, l'altro giornale.